il caso volpe magalli è chiuso almeno in trunale ma in tv ancora no oggi i due ex colleghi so sono incontrati a verissimo per stringersi finalmente la mano ma le cose non sono andate proprio come sperate il conduttore è stato condannato condannato a un pagamento di 700 euro al pagamento delle spese processuali e a un risarcimento dei danni di 5000 euro alla parte civile per averla diffamata su facebook un commento che faceva riferimento al battibecco andato in scena in tv ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne ma io ce l'avevo solo con lei non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa lavorare da 20 anni la prima ad arrivare a verissimo è la conduttrice le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa lavorare da 20 anni questa è una frase che colpisce me come donna come mamma come professionista ed era doveroso fare una battaglia legale quindi non è che questi sette anni di percorso giudiziario sono inziati per un capriccio era giusto che tutto questo fosse fatto pensavo a mia figlia che all'epoca era piccolina ma oggi naviga e sapevo che era giusto mettere la parola fine su un attacco che mi ha scovolto la vita arriva magalli in studio da silvia e danno un ennesimo confronto con adriana il conduttore poi commenta così eravamo tutti e due felici quel giorno in tribunale ma poi silvia incita il conduttore a porgere le sue scuse io glielo dico volentieri non è un problema ma non esageriamo non l'ho offesa come donna o come madre lei si è sentita offesa